Ciao a tutti! Oggi prepareremo il latte di cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti. Ingredienti sono farina di cocco e acqua. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale l'acqua e la scaldiamo per 7 minuti a 60 gradi. Velocità 1. Adesso aggiungiamo la farina di cocco. Amalgamiamo il tutto per 10 secondi a velocità 3. Adesso lasciamo riposare il composto. per 10 minuti. Dove aver fatto riposare il composto, frulliamo il tutto per un minuto a velocità 10. Adesso filtriamo il composto con un colino a maglie strette e posizioniamolo in un contenitore di vetro. latte di cocco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!